Il pluricampione italiano Paolo Andreucci sarà al via del 26esimo rally di Alba a bordo della scoda Fabio Rally del team H Sport di Silvio Lazzara. In tanti si aspettavano un possibile ritorno da parte del campione Garfagnino e così è stato. Una gara test per verificare il percorso di sviluppo fatto finora sulle gomme MRF Tires anche su asfalto, visto che l'undici volte campione italiano rally già da due anni è impegnato con la casa indiana nell'evoluzione delle gomme. La scorsa stagione la vittoria del titolo Terra ha premiato l'ottimo lavoro svolto da Ucci nei test, ma adesso è tempo di verificare l'evoluzione delle gomme anche su asfalto ed in tal senso il rally di Alba sarà un ottimo banco di prova, visto l'importante parterre di equipaggi che saranno al via. Al suo fianco ci sarà l'ormai fidato ed esperto navigatore Rudy Briani, con il quale ha già festeggiato il primo titolo lo scorso anno ed è attualmente impegnato nel tricolore Terra che guida a punteggio pieno dopo i successi al Val d'Orcia e all'Adriatico. Alba, ridente località piemontese, sarà naturalmente il cuore pulsante del rally con partenza e arrivo, direzione gara, parco assistenza in piazza Medford ed anche con i riordinamenti, ma in generale sarà tutto il territorio che andrà ad abbracciare la competizione e i suoi attesi protagonisti. A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo shutdown, test con le vetture da gara previsto venerdì 24 giugno dalle 8 alle 13, poi sarà corsa con la power stage del pomeriggio, mentre le altre 8 prove speciali si svolgeranno nella giornata di sabato. Ucci Alvia sarà uno stimolo per tutti, lui che ha già detto, non abbiamo alcun pensiero per il campionato, ma conoscendolo siamo certi che vorrà ben figurare, sicuro.